E' ancora emergenza ambientale nel Nolano. I cittadini da settimane si lamentano a causa dei lezzi nauseabondi provenienti dallo stir di Tufino e dalle ex discariche Painzano 1 e 2. Una situazione che affligge e rende impossibile la vita dei residenti della frazione schiava. I sindaci sono sul piede di guerra. Andrea Manzi, primo cittadino di Casa Marciano, ha scritto all'Asla Napoli 3 Sud e all'ARPAC, chiede un intervento immediato per la soluzione di un annoso problema che affligge il territorio. Specialmente nelle ore serali, questa puzza si sentiva addirittura a Nola, quindi voglio dire, chi ha la disgrazia di essere stato al Caldarelli, per esempio, la puzza che arrivava da Tufino era insopportabile. Nel merito di Manzi finisce la Sapna, società che gestisce l'impianto di tritovagliatura dei rifiuti a Tufino. La Sapna oggi disponde in maniera, diciamo così, secondo me, non confacente effettivamente al problema che c'è, dicendo che non ci sono problemi che riguardano la struttura dello stile. Io non so esattamente da dove provengono questi niasmi. Ovviamente ho soltanto un dovere di segnalarlo, anche perché non ho poteri. Se la situazione ambientale non dovesse migliorare, i sindaci non escludono l'assunzione di provvedimenti più stringenti a tutela della popolazione. Mi aspetto da parte della Sapna e anche dall'ARPAC e dall'ASRA che mi facciano conoscere effettivamente il reale stato delle cose, anche perché molti dei camion che arrivano praticamente presso lo stile, attraversano anche in parte il territorio di Casamarciano, mi riserva eventualmente di bloccare il transito dei camion, in modo che poi vediamo se effettivamente lo stile è qualche altra cosa.